Allora, Alessandro? Quanto lavoro ci sia dietro a un grande film, quando poi magari a casa, dopo averlo visto al cinema, si prende il DVD e si vedono le scene tagliate. Chi, dopo aver visto questo film al cinema, si prenderà anche il DVD, troverà una scena molto bella, che volevo proporvi in anteprima, in cui Maria Grazia va in farmacia e incontra un personaggio particolare. Ve la faccio vedere, una scena tagliata dall'originale. Ciao cucinotta, che ci fai qui in farmacia? Ci avevi a chiedere una cosa. Gradisci un'aspirina e ho una bella misurata della pressione? Due due a destra e due tre a sinistra? A sapere se sono incinta. Incinta? Lasciami indovinare, anche tu sei uscita con Caputi? Allora non devi preoccuparti, guarda che quello lì fa tanto il galletto, ma poi... Nada de nada! Te lo dico perché anch'io ci sono passata. Quello è tutta fuffa! Al limite... Tenga, se proprio lo dovesse incontrare ancora, gli dia queste pillole blu e gli dica che lo saluta tanto Francesca. Grazie. Brava, brava!